salva a tutti carissimi amici bentornati in compende del guerz bentornati qua su vosmart.it e da circa una settimanina che sto provando questo galaxy watch 7 acquistato su amazon un prezzo molto molto interessante poi ve ne parlerò ed è un prodotto che ci avete richiesto a gran voce sotto la recensione che fra l'altro sta andando molto molto bene di galaxy watch ultra galaxy watch ultra che è il principale antagonista in maniera molto molto più performante di questo galaxy watch 7 e quindi magari potrebbe anche sorgervi una domanda guerz quale ci consigli galaxy watch 7 o galaxy watch ultra visto che ci sono circa 350 330 euro di differenza ad oggi proprio street price se volete quel video me lo fate sapere qua sotto nei commenti oggi ci sarà solo la recensione di galaxy watch 7 e un brevissimo confronto con galaxy watch 6 che ho ancora qua in ufficio con me in descrizione trovate la migliore offerta nonché trovate anche il canale telegram dedicato ragazzi a voi fan samsung quindi magari entrateci così iniziate a conversare con dei nerd molto incalliti del brand coreano detto questo trovate anche il tasto mi piace per supportarci e soprattutto iscrivetevi al nostro canale youtube per non perdere le future review che come vi ho detto agosto sarà un mese ricchissimo di video qua su questo canale detto questo andiamo sul banco di prova che vi faccio vedere questo galaxy watch 7 più da vicino sigla e allora eccoci qua ragazzi come vedete abbiamo sul nostro banco di prova un galaxy watch 6 da 40 mm un galaxy watch 7 questa volta da 44 mm ho scelto la versione 44 mm perché è un pochino più grande ma soprattutto per l'autonomia dello smartwatch allora intanto andiamo a vedere quelli che sono secondo me le principali differenze intanto un sensore bioactive qua nella parte posteriore su galaxy watch 7 questa è una cosa molto importante soprattutto sulla sul tracciamento di tutta la nostra attività quotidiana poi vabbè due tagli differenti ma nonché un cinturino totalmente differente infatti è stato rinnovato da parte di samsung in tutto e per tutto vedete ci sono questi due inserti in corda uno arancione uno azzurro secondo me molto molto belli abbiamo un rinnovamento come vi ho detto interiore quindi quelle che sono le performance e soprattutto quello che è la precisione nel tener traccia di tutta la nostra attività fisica questo è un dettaglio che magari a voi potrebbe interessare come no dipende un po' è chiaro che non ci sono novità stravolgenti per quanto riguarda appunto queste due smartwatch quindi secondo me un galaxy watch 6 versione 44 mm può sicuramente andar bene alla stragrande maggioranza delle persone quindi non fare un upgrade proprio lato galaxy watch 6 galaxy watch 7 è chiaro che se dovete comprare a nuovo il vostro dispositivo allora vi dico andate sull'ultimo modello perché perché secondo me proprio la parte posteriore della sensoristica è un vero game changer rispetto al precedente modello che però secondo me non è un vero e proprio upgrade rispetto alla precedente versione perché dico questo perché comunque anche galaxy watch 6 va bene e di conseguenza non trovo il motivo per cambiare chiaro se volete passare a ultra allora lì è un altro discorso soprattutto per il dual gps allora me lo vado inserire al polso vi faccio vedere come in questa misura quindi ml io debba andare fino all'ultimo forellino disponibile perché ho un polso abbastanza piccolino il cinturino è veramente ben fatto ragazzi mai un fastidio in ambito quotidiano mai troppa su durazione lo preferisco di gran lunga quello di galaxy watch ultra tra l'altro ho comprato dei cinturini compatibili che poi magari nel versus se lo vorrete ve le farò vedere vedete una volta inserita al polso è addirittura un pelino largo ma ci sta vado a sbloccare il mio smartwatch perché lo sblocco perché ho installato google pay quindi vedete doppio clic in questa zona vado a pagare direttamente con la mia carta attraverso l'orologio è compatibile qualsiasi tipologia di carta quindi non vi preoccupate l'orologio è ip68 resistente a 5 atmosfere una batteria interna da 425 miliampere ora vi ho detto cinturini da 20 mm compatibili li trovate su amazon trovate quello che volete smartwatch compatibile con tutti gli smartphone android ma non con apple e fra l'altro ragazzi vi faccio vedere anche una cosa ci sono delle funzioni dedicata a samsung health come ad esempio questa tramite galaxy ai ma come ad esempio anche l'andare a misurare un ecg nonché anche la pressione arteriosa che serve un macchinino esterno ecco queste sono funzioni esclusive samsung health che trovate solamente se abbinate questo smartwatch a uno smartphone samsung altrimenti non ci sarebbero si può misurare l'ossigenazione del sangue vostra attività fisica giornaliera sonno e chiaramente anche i battiti cardiaci eccolo qua qui ho un widget dedicato vedete 79 battiti in questo momento watch face altamente personalizzabile all'interno dell'applicazione stessa funziona tutto come avete visto anche su ultra il frame è in alluminio e cristallo zaffiro per quanto riguarda la protezione del nostro display un display che è un super amoled 1.5 pollici si vede benissimo sia sotto luce retta del sole sia in ambito interno funziona bene il sensore di prossimità fra l'altro la sensoristica interna a questo dispositivo abbiamo l'accelerometro il giroscopio barometro altimetro bussola sensore di temperatura tutto grazie come vi dicevo al nuovo sensore bioactive che è stato inserito nella parte posteriore l'orologio ragazzi è un fulmine veramente fluido in ogni reparto in ogni dove non ho mai avuto un problema né mai un impuntamento passare da un menu all'altro è semplicissimo grazie al nuovo processore un exynos w1000 a 3 nanometri ecco se volete trovare un piccolo upgrade ma sostanziale secondo me è la velocità di navigazione e di fluidità tra watch 6 e watch 7 watch 7 è altamente più fluido rispetto al 6 come vedete poi il menu è uguale a watch ultra quindi con uno swipe verso sinistra notifiche ghiera touch ovviamente non c'è la ghiera fisica swipe verso destra per tutti i vostri widgettini che avete inserito all'interno dell'app dedicata toggle rapidi se no trovate anche tutte le varie applicazioni che potete riordinare e soprattutto potete scaricare quello che volete all'interno del play store che è dedicato per lo smartwatch apriamo l'applicazione samsung health ci ricorda chiaramente lo sponsor delle olimpiadi allora questa è una funzione molto carina che si trova tramite galaxy eye quindi non è compatibile se abilitate uno smartphone diverso da quello che è samsung quindi mi raccomando a questa questa cosina qua praticamente vi crea una media vi dà una stima di salute del vostro fisico in base a cosa state facendo a cosa avete fatto e quant'altro molto comoda molto utile se ne può fare a meno sì però c'è è integrata e quindi io ne ne usufruisco questi sono i passi giornalieri questo è quanto questo è il punteggio della mia dormita di ieri eccellente 90 addirittura di punteggio meraviglioso poi abbiamo tutto quello che avete già visto all'interno di galaxy watch ultra quindi abbiamo un indice ag e un battito cardiaco vedete 38 96 stress elevato in questo momento ma sto registrando la recensione l'ossigenazione del sangue che come abbiamo parlato anche sotto i commenti è un'ossigenazione del sangue abbastanza precisa quando fate una singola misurazione ma su lungo andare quindi su una media giornaliera non la trovo precisa come vedete 85 per cento cento per cento questo perché lui fa un calcolo abbastanza particolare ne abbiamo parlato nei commenti quindi non mi sto a dilungare più di tanto differenza sostanziale tra galaxy watch 7 galaxy watch ultra due a gps e soprattutto velocità di connessione galaxy watch ultra è dedicato se siete una persona molto sportiva però anche con watch 7 potete tranquillamente andare a correre avete tutte le varie possibilità nonché tornando indietro vedete galaxy wearable è l'applicazione dedicata alla vostra configurazione dello smartwatch batteria batteria personalmente buona la tengo senza always on display attivo una batteria migliore rispetto a galaxy watch 6 una batteria che vedete mi fa due giorni e sette ore rimanenti col 69 per cento ma l'ho staccato ieri ci faccio tre giorni senza always on display un giorno e mezzo con always on display è una batteria ragazzi che paradossalmente è migliore rispetto a galaxy watch ultra in questo momento dico questo momento perché gli smartwatch verranno sicuramente aggiornati lui ha già ricevuto un update ve lo fate sapere anche voi nei commenti almeno così so anche la vostra opinione questo orologio l'ho acquistato in sola versione bluetooth non ho voluto la versione sim perché tanto non inseriscono i sim al suo interno ed è un prodottino che mi sono portato a casa 280 euro prezzo finito su amazon e secondo me questa cifra inizia veramente ad essere un prodotto da tenere in forte considerazione soprattutto se siete utenti samsung se siete utenti samsung potete veramente sfruttare tutto all'interno del vostro galaxy watch 7 per tutti gli altri ci farei un pensierino più che altro ci sono funzioncine carine che che vengono perse se appunto non avete un prodotto targato samsung e il mercato comunque in ambito wearable sta veramente tirando fuori ottimi prodotti cosa ne pensate me lo fate sapere come sempre qua sotto nel box dei commenti anche per quest'oggi vostro guerzo vi ringrazia vi saluta ragazzi ci sentiamo prossimamente per una nuova review ciao a tutti